3, 2, 1 e stop! Attenzione, secondo me è uscito lo zainetto da 250 V-Bucks, ragazzi. Oh! E invece no! Siete pronti a vedere una cosa che non avete mai visto? Bene, eccola qui! Benvenuti in un nuovo episodio dello shoppare da bendato con la benda rosa. Lo shoppare da bendato si evolve sempre di più, ormai lo porto da tantissimo tempo e la qualità ha raggiunto le stelle. Oggi siamo addirittura con la benda rosa, che tra l'altro ho rubato da Mushix nella villa degli youtuber, però voi non glielo dite, mi raccomando. Siamo pronti in piena estate a shoppare tutte quante le skin attraverso la nostra benda. La serie che ormai tutti... Beh, è inutile che io continuo a spiegare come consiste, però non lo so, ogni tanto ve lo voglio spiegare. Semplicemente vai nello shop, ti bendi e beh, sei costretto a shoppare tutto quello che decide la fortuna. Una cosa che però devi assolutamente fare prima di iniziare a shoppare è ovviamente premere quadrato se avete il joystick e scrivere Mattiz nel supporto a un creatore. Mi raccomando, supportatemi tutti come creatore perché dobbiamo arrivare a 255 mila... 255? Era 250? Vabbè, 255 mila persone che mi supportano entro la fine della season 3. E oggi ci tengo a fare un saluto a tutte le persone che si chiamano Giacomo e che mi supportano su Fortnite. Ciao Giacomo e scrivetemi come vi chiamate nei commenti. Adesso però basta perdere tempo, io direi di partire con la prima shoppata. Abbiamo 25 mila V-Bucks, anzi 25 mila 50 V-Bucks che mi permettono di shoppare praticamente tutto quanto il negozio di oggi. Vi dico un attimo quali sono gli oggetti che vorrei trovare attraverso questo shoppare da bendato. Innanzitutto il pacchetto piccone ombre mi piace un sacco, è davvero fighissimo. Poi mi piacerebbe trovare anche questa skin Vix, non è affatto male, c'ha tipo 6 stili, quindi con una cosa ti prendi 6 skin. E poi vorrei anche Black Manta che è la skin speciale che mi piace davvero tantissimo. Riguardo i balletti invece è... ma quanto è bello! Ma questo è il balletto di TikTok! Questo è il balletto di TikTok, ma che figo è! Bene, supporto al creatore Mattiz inserito, mettiamoci... Anzi no, ci dobbiamo mettere prima le bende perché sennò la cuffia non mi entra. Benda rosa tattica pronta e ci siamo, si parte. Allora, iniziamo a scorrere totalmente a caso in questo modo, vai. Utilizziamo ovviamente il nostro fantastico joystick. Facciamo così, facciamo così e vi dico 3, vi dico 2, vi dico 1 e stop! Ok, vediamo cosa è uscito. Ma, ma... Ok, c'è qualcosa che non va qui. Facciamo che ci riproviamo. 3, 2, 1... Stop! Oh yes, ci sia... Uh, stavolta ho cliccato davvero qualcosa! Ed è la sezione di Manta, della skin Black Manta. Abbiamo piccone oppure la skin. Attenzione perché adesso io mi devo ribendare. E ora qui abbiamo bisogno di tanta fortuna. Inizierò a scorrere in questo modo e... 3, 2, 1... Stop! Vediamo cosa è uscito. No! Il piccone, no! Non ci credo, dai. Bastava un altro R1. Ah, di pochissimo. Ci siamo andati già vicini a una skin che volevo. Comunque è uscita la Manta che ovviamente ci andiamo a shoppare e l'andiamo subito a provare. Eccoci qua! Ci siamo pronti a giocare a fattoria frenetica con la frenesia del mio nuovo piccone. Che in realtà non ha nulla di speciale. Sinceramente non mi piace neanche molto. Però... Però sono mortissimo. Oh mamma mia. Ma che sensibilità ho! Che sensibilità ho! No, 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 no. Qua finisce male se non trovo subito un'arma. Corri, 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 corri. Ok, spacca, 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 spacca. Oh mamma mia. Oh, ho sentito una cesta qua sotto. Ok, eccola. Abbiamo un'arma. Attenzione, pure cura bomba. Non so se usarli adesso. Sì, usiamoli adesso che sento tanti bei nemici. Dobbiamo stare super attenti, eh. Super, super attenti. Attenzione. Utilizziamo il nostro piccone. Eccolo qui con la doppia spada di Manta. Non male. Allora, vi dico, il movimento... Come delle spade laser mi piace molto. Però ecco, per uno scioppare da bendato noi puntiamo a molto, molto di più. E questo ormai lo sapete benissimo. Ora però... Ssh, ce n'è uno sopra? E' sotto. Eccolo. Eccolo. Ok, è mia. Una kill per noi. Una kill per noi, ma non aveva neanche un'arma questo, ragazzi. Ok. Ragazzi, c'ho... Oddio. Oddio. No. Ma dai. Oddio. No. 29 di vita. Avevo finito tutto il caricatore dell'M4. Qua non si è capito chi è stato più un hub tra lui e me, comunque. È stata davvero una roba vergognosa. Proseguiamo con la seconda scioppata. Questa volta ve lo giuro che trovo qualcosa di più bello. E i picconi non sono mai soddisfacenti, tranne se non sono quelli belli tutti animati. Ma questo non è stato il caso. Quindi, prendiamo il joystick in mano e iniziamo a ruotare con la nostra... Aspettate, ho fatto già un casino, mi sa. E infatti, lo sapevo. Devo ricordarvi di non cliccare ne R1 e ne R... Blah, 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 boom. Dicevo. Iniziamo a scorrere e a pregare che vada tutto bene. 3 2 1 No, stop! Attenzione, attenzione. Bau? Ma che cos'è questo set? Bau? Oddio, il cagnolino, il carlino! Non ci credo! Ah! Non ce l'ho questa skin! Ma io non pensavo fosse nello shop. Boh, non me ne ero neanche accorto. Comunque, ci sono un sacco di cose, eh. C'è addirittura lo zainetto. Che costa solo 200 V-Bucks. Comunque, vabbè, bendiamoci e andiamo a scoprire che cosa uscirà. 3 2 1 E... Stop! Attenzione, secondo me è uscito lo zainetto da 250 V-Bucks. Oh! E invece no! È uscita la skin! È uscita la skin! Oh, yes! Ora mi sento abbastanza fortunato. Il codice Mattiz c'è e ce lo andiamo a scioppare. E vai! Ma che carino! Che carino è il carlino! Ci andiamo a equipaggiare anche la sua ciotola dietro la schiena. E questo scioppare da bendato sta tornando di nuovo alla sua mega leggendarietà. Mi raccomando, non vi ho chiesto i like! Proviamo a superare almeno i 30.000 mi piace per un nuovo episodio dello scioppare da bendato su Fortnite. Vi do 5 secondi per lasciare il like a partire da ora. 5 4 3 2 1 E adesso andiamo a provare il nostro carlino. Eccola qui la skin del carlino! Ma quanto è bello! No vabbè! Ma quanto è carino! Come ho fatto a non averlo fino ad oggi? Questa skin è uscita tanto tempo fa tra l'altro eh! Ora però siamo a Borgo Bislacco e dobbiamo provare la nostra skin. Vediamo cosa combiniamo. Subito c'è questo per noi che ci dà qualcosa di abbastanza decente. Ho un nemico sotto! Ho un nemico sotto! Bevi 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 bevi! Ok almeno abbiamo 50 di vita in più. Sta salendo! Oh oh! Abbiamo un problema? Aspetta no è uscito! Ma dov'è? Eccolo! Eccolo! No! Mi sparano! Attenzione! Ok rientriamo dentro che... E' meglio va! Rientriamo dentro che è meglio! Ok! Lo sento! Lo sento! Secondo me è sotto le scale! No! E' qua! Ma dov'è? Ok! Shhh! Zitti! Ragazzi sono entrambi in casa! Eccolo! Eccolo! Ha ha! Ma! Ma! Ma non aveva un altro nemico! Shhh! Ragazzi quell'emico non aveva l'arma! Ma dov'è l'altro? Dove? Dove si è nascosto? Eccolo! E' rientrato in casa! Basta! Non ce la faccio più a fare il giro tondo! Devo stare attento perché loro hanno anche il fucile a pompa! Arriva! Eccolo! Sta rompendo qui! Eccolo! Eccolo! No! C'è il fucile a pompa! Non ci credo! No 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 no! Ok! Ok! Mi ho fatto malissimo! Mi ho fatto malissimo! Carica l'arma! Carica l'arma! Oh no! Sono chiuso! E' qui! C'è un nemico qua! Ok! L'ho eliminato! Non ci credo! Che cosa sta succedendo? Ma quanti siamo? Quanti siamo? Oh mamma mia! Questa è ufficialmente la partita più assurda della storia! La mia casa sta prendendo fuoco! No 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 no! Via via! Fuga da qui! Fuga da qui! Un cecchino lì! No! Oh mamma mia! Corri! Corri! Ma che cosa sta accadendo? Fatevi entrare subito qui dentro! Ok! Ok! Non so come faccio a essere vivo! Mamma mia! Mamma mia! Che partita stranissima! Qui purtroppo è tutto lutato quindi di sicuro non riuscirò a trovare armi decenti Dato che sto solo con un vampa e una pistola Ecco la fiora Pompa! 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 Ok! Ok! Questo è ottimo! Come solo due colpi? No! Solo due colpi? No! Il nemico è qua sotto! Non ci credo! Ragazzi! Aiuto! Ci sono due nemici! Ok! Caricano il pompa! Eccolo! Attenzione! Attenzione! No! Ma come ha fatto a prendermi in testa? Non ci credo! Non voglio più ricordarmi di questa partita! Non so perché ma è stata davvero una delle partite più strane di tutta la mia vita! Vabbè! Vabbè! Andiamo al negozio! Procediamo con la prossima scioppata! Mi sono rimesso la benda verde ovviamente... Verde? Oh mamma mia! Non so più riconoscere i colori! Volevo dire la benda rosa! E partiamo! Questa volta anche senza cuffie così non sento l'audio! Vai! Tre! Due! Uno! Stop! Vediamo cosa è uscito! Elmira! Perché non me l'ha cliccato però? Mi sono fermato su Elmira! Ok! Ah qua non ci sono altre cose da scioppare! Cioè c'è solo questo! Quindi ho scioppato la skin Elmira! Effettivamente! Wow! Questo stile non è male! Un altro stile? Ha tre stili questa skin! Figo! Ok! Andiamocela a prendere subito! Questa volta è stato più semplice del previsto! Vi devo dire la verità! Preferivo la skin del Carlino! Tanto che infatti ho lasciato la sua ciotola dietro la mia schiena! Questa skin sinceramente non mi piace molto! Oggi abbiamo scioppato davvero un sacco di V-Bucks comunque! C'è due skin più quel piccone e abbiamo trovato cose così e così! Però vabbè! Magari questa è la skin fortunata invece! Forse è la skin... Oh no! Forse no! Ok! Forse non lo è! Forse non lo è! E invece sì! Vai di prima kill! Non mi aveva minimamente visto questo nemico! Ok! Una per noi! Non siamo partiti affatto male! E davanti a me c'è una casa che prende fuoco! Mamma mia che tristezza! Aspetta che ho visto un nemico però! Aspetta che l'ho visto! Aspetta che lo inseguo! Ok! Pushiamolo come solo noi sappiamo fare! Ok! Ok! No! No! Va bene! Boom! No! Boom! Mamma mia un'altra kill! Mamma mia un'altra kill! Questo fucile a poppa mi sta facendo sognare oggi! C'è un nemico che balla? C'è un nemico che balla! C'è un nemico che balla! Raga l'ho sentito! L'ho sentito ve lo giuro è qua sotto! Oh mamma mia! Che paura mi sta facendo! Ma no! Non è qua! Ma dov'era? Ho sentito uno ballare ve lo giuro! Ok! Probabilmente ho fatto un piccolo fail! Sento altra gente! Eccolo! Boom! Un colpetto è andato! L'importante è quello! Eccolo! Stavolta l'ho sentito! L'ho visto! Diamogli fuoco! Fuoco alla casa! No! Chi è che mi ha sparato? Attenzione! È sotto! È qui! È qui! Ok! Attenzione! Ho un'idea! Vai! Fuoco! 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 Ok! Ok! Calmi! 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 Questo è un bel fight! Dividi così! Boom! Let's go! Ma allora questa era la skin prescelta! Non ci credo! Chi è che mi ha sparato? Chi è che mi ha sparato? No! 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 Eh! No! Sono incastrato qui ora! Oh oh! Abbiamo un problema! Prova a uscire! Sì 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 sì! Faccio in tempo! Faccio in tempo! Il nemico è scappato via! Facciamo così! Facciamo così! E voilà! Ci siamo! Dove è scappato il nemico però? Oh! Chi è che mi ha sparato col cecchino? L'ho visto! Mamma mia! Mamma mia che schivata! Un altro cecchino! Ok! Ok! Oddio l'ho preso! Eccolo! Eccolo! Ha beccato prima che io sparassi! No! Non ci credo! Ma perché dico non ci credo ogni volta che mi uccidono? Vabbè! Ciao Vito! Grazie mille per aver attivato l'abbonamento leggendario! Un salutone da Mattiz! In descrizione trovate il link per abbonarvi! Mi raccomando! Che dire! Poteva andare meglio perché io sinceramente volevo la skin Black Manta! Invece abbiamo beccato Stella Manta che non le utilizzerò mai! Guardate lui invece quanto era carino! C'ha anche lo zenetto abbastanza bello! Comunque! La maglietta supporta un creatore Mattiz! Ci ha portato fortuna anche oggi! Mi raccomando! In questo momento compariranno solo schermo dei video che sicuramente non avete visto! Quindi cliccate su quello che preferite! E noi ci vediamo in quel video! Supporto al creatore Mattiz! Taggatemi su Instagram ogni volta che shoppate! Ciao!